... ... ... ... ... con il numero 4, il capitano, Agnesi, con il numero 5, Deja, con il numero 8, Con il numero 10, Luiz Vettore, Adriano, con il numero 10, Daga, Maicon, con il numero 10 al 9, Estevola, Adriano, con il numero 10, Sule, Alù, Utrari, con il numero 24, Nel Sule, Riva, con il numero 10, Sule, Luciana, Ibu, con il numero 10, Davide, Alton, de ancora a disposizione, con il numero 1, Francesco, Ardo, con il numero 9, Lula, Ramiro, Ardo, con il numero 6, Andrade, Maxwell, con il numero 7, Luiz Vito, con il numero 9, Giulio, Riccardo, Ruth, con il numero 5, Super Mario, Manatelli!